Elena, bentornata a Centro Pavesi, questa volta per rimanere. Come ci si sente a far parte di questo progetto Club Italia? Sì, sono molto contenta di essere qui perché comunque è un progetto che mi piace, dove ci sono molte ragazze giovani, un po' mi fa strano, però sono molto fiduciosa e sono contenta di avere anche questa responsabilità. Senti, tu hai fatto un percorso un po' diverso rispetto alle altre, hai fatto già le stagioni in Serie A 1, che cosa ti aspetti che possa dare alla tua carriera essere qua? Io sono qua per lavorare perché voglio crescere ancora, perché sono contenta di aver fatto altre esperienze in Serie A che mi possono aiutare, però voglio anche poter essere io adesso ad aiutare anche loro e comunque fare una bella annata perché siamo tutte ragazze giovani che abbiamo voglia di crescere, di far bene e quindi sono convinta che sarà così. Senti, l'anno scorso tu ci hai incontrato ad avversari, che idea ti sei fatta del Club Italia in Serie A 1? Perché insomma era una novità per tutti l'anno scorso. Ma non era assolutamente una partita facile perché era già una squadra forte che poteva stare benissimo in Serie A 1 e quindi penso che quest'anno sia la stessa cosa. Senti, tu sei nella provincia di Varese e insomma giocare a busto sarà uno stimolo in più per te, vuoi invitare i tifosi a venirci a vedere? Sì, sono anche contenta per questo perché comunque qui mi sembra di essere anche abbastanza a casa. A busto è sempre bello giocarci, poi a me fa sempre uno strano effetto perché Davila Cortese è comunque sempre busto e quindi niente, vi aspettiamo numerosi.